Su questo abbiamo proceduto abbastanza velocemente, abbiamo fatto un lavoro serio e ora l'obiettivo del Governo chiaramente è una norma di riordino che ci consenta intanto di mettere ordine alla giungla di interventi, pronunciamenti che si sono susseguiti, che necessita ovviamente di un confronto con la Commissione europea per arrivare al duplice obiettivo da una parte di scongiurare la procedura di infrazione e dall'altra di dare certezza agli operatori che è sempre stata una delle nostre priorità e quindi questo adesso è il lavoro che noi stiamo facendo e che riteniamo sia a questo punto diventato molto importante perché c'è obiettivamente una difficoltà sia per gli operatori che non hanno certezza sul loro futuro sia anche per gli enti che devono poi applicare delle norme che non sono chiare a partire dai comuni che hanno oggettivamente delle difficoltà che ci segnalano continuamente e quindi è oggetto del lavoro delle prossime settimane.